Tavolo tecnico per la questione della viabilità su via Munerati. Si è trovata una soluzione per alleggerire il disagio dei residenti? Intanto buonasera a tutti. Qui si lavora sempre senza soluzione di continuità. E' terminata da poco l'aggiornamento con il tavolo tecnico alla presenza dell'ingegner Cavallaro, del comune di Rovigo, del comandante della polizia locale, dei consiglieri comunali Aretusini e Raule e i rappresentanti del territorio, delle associazioni, Guglielmo Fabrizio, Fabiano Rizzo, Simone Bedendo, Matteo Masin. E' stato un incontro molto positivo e produttivo perché anche grazie a tutti gli approfondimenti che sono stati fatti ulteriormente anche per dare risposte non solo ai residenti ma anche a chi ha la responsabilità gestionale di queste situazioni e quindi con tutti i rischi annessi e connessi. Anche grazie all'impegno di Acque Venete, che ringrazio, sono state fatte ulteriori ispezioni con il georadar, con le video ispezioni, adesso entrare nel merito dei particolari magari chi ci segue, sono situazioni molto tecniche. Io ho ricevuto una lettera nel pomeriggio da parte del dirigente appunto che grazie all'esito di queste ulteriori video ispezioni e approfondimenti si ritiene che nel tratto della strada sopra indicato possa essere consentito il transito nella corsia attualmente interdetta per gli autoveicoli fino a 35 quintali. Il tratto interessato è quello che va da via Roverello Busa a piazza Don Arrigo Ragazzi di Cantonazzo. Quindi in quel tratto di strada verrà aperta la circolazione in doppio senso di marcia però con la limitazione, cioè fino a 35 quintali potranno passare, oltre non potranno passare. Abbiamo comunque anche convenuto con il tavolo di continuare a presidiare il territorio per seguire chi non rispetta le norme del codice della strada. Ricordo a tutti che il codice della strada è una legge dello Stato italiano. Quando uno decide autonomamente guidando un autoveicolo di andare a contromano se ne assume tutte le responsabilità, ne se connesse, quindi non voglio parlare di incidenti o di altre cose. Uno sa che quando va a contromano non può andare a contromano e se c'è qualsiasi forza dell'ordine, polizia di Stato, carabinieri, se in quel momento ti accerta che stai andando a contromano rispondi con le sanzioni previste dal codice della strada. Confermo anche che per andare incontro ai disagi di questo periodo verrà attenzionata, nel comunicato c'è scritto una riduzione del 7% della tariffa. È in via di definizione, sicuramente ci sarà una riduzione maggiore rispetto a quella che già tutti i cittadini di Rovigo, cittadini, commercianti, attività quindi di qualsiasi tipo, si vedrà riconoscere nella bolletta della Tari. Una riduzione del 5%. In questi giorni assistiamo a dei dibattiti a livello nazionale dove invece si parla di consentire alle amministrazioni comunali di aumentare le imposte comunali. Ecco, questa maggioranza, il Sindaco Bergamin invece ha già dato un segnale di riduzione del 5% che rimetterà in circolo in città 400.000 euro. Per i cittadini residenti in quell'area precisa della nostra comunità, quindi Granzette, Cantonazzo, Conca di Rame, cioè quella interessata al perimetro di via di via Munerati, perdonatemi, stiamo studiando degli appositi provvedimenti che matureranno nel percorso del previsionale, di cui abbiamo avuto un'informazione certa oggi, potremo approvare entro fine marzo. Il limite prima era 31 dicembre per legge, poi procrastinato a fine febbraio, adesso avremo la possibilità di approvarlo anche entro fine marzo. La mia volontà è quella di approvarlo il prima possibile, perché questo ci consentirà di mettere in sicurezza tante dinamiche e tanti interventi. Ecco, questa è una situazione molto importante, ci tenevo, sono vicino a quei cittadini, i disagi li conosco, un Sindaco, come mi sono mosso su Viale Marconi e tante altre situazioni, in questi giorni, oggi è mercoledì, ho ritenuto opportuno convocare tutto il tavolo, i consiglieri, per dare questa notizia, insomma. Grazie a tutti.